Non lo so, sì che credo, in questi ultimi giorni mi ricorda molto Susi. Dobbiamo parlare con la polizia. No, non mi crederanno. Quell'uomo non dovrebbe andarsene in giro libero, è un assassino. Ed è un grave errore nascondere certe informazioni. Direi di avvisare l'ufficio del procuratore al più presto. I ragazzi non devono sapere le cose terribili che mi faceva il nonno. Mi vergogno, non ci voglio neanche pensare. È lui che si deve vergognare, non tu. Aileen non è tuo padre, è un mostro. Un mostro? Ecco che arriva il mostro! Vieni qui. D'accordo. Chiamalo. Esatto. Sì, è qui. Ve lo racconterà lei stessa. E vi darà delle indicazioni. Eccola. Grazie. Grazie. Grazie.